Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 17esimo episodio della Egglock a Pokémon Diamante e Perla, qui con noi abbiamo il solo e inimitabile... Oh mio Dio mi sento speciale! Hai visto quanto sei speciale Tia? Su questo canale sei il benvenuto! Raga lasciate dislike ai suoi video! Ottimo! Comunque ragazzi lui è trainer Tia è un po' timido e quindi non si vuole presentare. In ogni caso Tia spiegaci che cosa andremo a fare veramente oggi visto che abbiamo fatto un paio di fail caso Tia vi racconta. Andiamo verso le morde, se vedete che abbiamo il Pokémon un po' troppo livellati... Abbiamo sbagliato, pensavo di battere i fanni in questo episodio. In realtà non era così. Io intanto sto somministrando la pozione segreta a Psyduck che tra l'altro somministro un po' di cianuro a quel cane che fa casino là fuori. Ok. Ai al WWF sto arrivando. Perfetto, dovrebbe arrivare Camilla, dalle tette in bella vista, eccola qua. Oh bene, hai usato la pozione segreta che ti ho dato, gli Psyduck ora non soffrono più di mal di testa cronico. Ma nessuno è riuscito a capire da che cosa si è a causa... Basta, ti prego. Tipo le storie sugli Psyduck raga possiamo anche arrivare... Non so parlare oggi raga, è un problema. Quando mai sappiamo parlare tra l'altro? No, tra l'altro io oggi ho mal di gola raga, sto morendo però sti cazzi. E poi ci dà l'arca muleto, comunque era l'amuleto di Noè, infatti la famosa arca di Noè. Sì, infatti Psyduck ha anche un Pokemon d'acqua, non c'entra un cazzo, però ce l'ha dato dopo questo e quindi... Esatto, esatto, è perché nuotava di fianco là. Ma qua abbiamo una cattura, piccola domanda. Tan 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 tan, non lo so. Aspetta, fammi controllare. Perché c'è cattura per sbaglio. Tia, non abbiamo catture. No? No. Lo killo? Ammazzalo. Ammazzalo di cattiveria, stupra la sangue. Ok. Grazie Tia. A proposito di non catture, repellenti venite a me subito, vi prego. Dove siete? Questo che io non li ho comprati, ne so. Ma sai che neanche io ora che ci penso, probabilmente. No, ok, io ho un repellente max, facciamocelo bastare. Boh, io ho un super repellente. No, nano malefico, guarda che roba, faccio parte del trio ninja. Anch'io. Anch'io. Tra l'altro il trio ninja mi puzza tanto di trio oscuro, raga, me ne sono accorto solo adesso. Attenzione. Che troia! Ho fatto volo ma ho fatto tuono. E' non cresciuto. Ho fatto volo ma ho fatto tuono ma mi ha inculato. Ok. Se io intanto vedete che non parlo è perché ho leggato come se non ci fosse un domani. Il sogno di una vita, ragazzi, che bellezza. Muori, puttana di una kirli. Ripeti. Ho capito sette parole diverse insieme. Tra l'altro, raga, la mia connessione è sempre avanti anni luce. Tia, tu lui ovviamente non sta capendo un cazzo. Quindi adesso possiamo pegliare proprio il culo. Tipo, Tia, sei un po' cancro. No, no, adesso ho capito. Perlomeno non mi focus sui bambini. Esatto. Un cancro, un pedofilo a far la serie. Eh, questo è un po' cancro tra l'altro. PP su. Ma infatti il ninja si stava nascondendo per un motivo. Ok, perfetto. Allora, ci sono altri ninja poi in giro ci passassero. Ah, no, 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 aspetta tre, anche devo andarli a prendere i ninja. Ma allora perché è uscito? Eh? È usato il tuo richiamo speciale. Perché gliel'ho uscito. È usato il richiamo speciale per farlo. Possiamo proseguire, ragazzi. Allora, bello, stasera, ragazzi. Oh, lasciate tanti bei mi piace. Se raggiungiamo 200 mi piace, Tia ci proverà con un minorenne. Perché io sono già minorenne e non vale. Ah, cazzo, tu sei ancora minorenne, non è giusto. Eh, scusami, eh. Eh, scusami. 300 mi piace, ragazzi. Account fake, mi raccomando. E Tia caricherà un video in cui ci proverà con un minorenne. Neanche una minorenne, proprio un minorenne. Abbiamo una. Ottimo. Intanto qua abbiamo Iperzanna al posto di lacerazione. Tu dove sei, Tia? Io sto battendo i bambini. In che senso? In quello che tu sai. Eh, ok. Aspetta, l'eserokincoming. L'allenatore con quattro mosse. Casermalo. Non dirlo. No. Oddio. A proposito, ho trovato l'elettritore, raga, per terra, ma fuori parte ho trovato anche il magmatore. Adesso lo faccio pure a vedere. Quindi c'ho magmatore, terror panno. Gli smutti decenti. C'ho magmatore, terror panno e dell'elettritore. Tutto. Eh, vabbè. E tutti di fila le altre. No, scacciabruma, tua madre inquestura, che odio! Ormai, ragazzi, fate la maglietta, tua madre inquestura. Tua madre inquestura. Qualche grafico. Ce l'avrà qualche grafico per gli iscritti. Perché mia madre inquestura? Sicuramente perché ho combinato qualcosa di sbagliato. Giusto, Tia? Con i bambini. E chiaramente. Allora, nel frattempo io sto ammazzando un karateka. Sua madre nella teka. Quindi possiamo... Ma se c'è lì? Ah no, io mi ero già passato quel tipo. Mi sto salendo le scalette. Eh no, io stavo andando a prendere uno strumento, però quest'uomo qui mi ha fermato. Io l'ho balsato. Io essendo comunque minorenne sono ogni tanto... Ah no, era un altro bambino. Cazzo, ho confuso il karateka col bambino. Peccato. Eh, si gioca alla lotta, no? Allora, possiamo proseguire dopo sta strada. No, minchia, ti giuro che avevo confuso un'allenatrice con un albero. Non l'ho vista. Non l'ho vista. Non l'ho vista, te lo giuro, Marco. Io bello sto, Ald. Cos'è? Oggi ultimo canto? Ah no, ok, aspetta. Devo riuscire a staccare. Era un po' Ok. Questa ovviamente è bippata perché il black humor non piace alle persone. E' recito l'episodio. Mi punk è questa. La Cambogia è stata bellissima, tia. Io sto ancora ridendo. Intanto chatot con lo scuro tuffo, senza che... Senza un motivo logico. Quella è stata... Sento ridere ma non so cosa troverete. No, niente, niente, niente. Stavo ripensando alla Cambogia. Quella è stata una perla di saggezza colossale. Ok, io sto affrontando la coppieta di fanta allenatori. Non so te? Eh, io sono più avanti. Eh, ma perché a me stanno beccando tutti, tipo... Schiatta, frago... Ma che ho sfidato tutti? Frago il tempo. Allora sei solo più forte. Porca tro... Ma ha fallito due attacchi di fila! Cos'era quella voce? 118! Ho fallito due attacchi di fila! Eh, era molto... Era un'intonazione particolare. Tra l'altro ho fatto frago il tempo contro un finion. Non devo avere una neoplasia al cervello, veramente. Guarda, raggia aurora, c'è un finion che sta buttando giù il garcio. Un po' ma se vi sembra normale. Sì, oh, ma sta cazzo di nebbia che mi fa fallire due terremoti. Oh, zì, non parliamone perché io tra un attimo comincio a sclerare. Io non mi ero dimenticato di quanto fosse Dio Cristo sta nebbia. Guardalo! Fanta allenatore, tua madre in calore! Sempre in mezzo ai coglioni! Sempre! Sta gente non li so poi. Poi li mandano in campo peli per... No, si sentono... Leggermente troppo solo a livello da... Ne giura? Raga, purtroppo pensavamo di dover effettivamente affrontare i fennii. Poi siamo arrivati, abbiamo pure registrato. Entriamo dentro e ti ha fatto... Gio, non c'è l'ascensore! No, ma il problema è che ci abbia messo sei anni ad allenare i pochi 1 a 35 percorsi storti. Tra l'altro... Adesso ho capito il motivo. C'era qualcosa che non tornava effettivamente. Capisco perché i selvati erano... I selvati. I selvati erano... Sì, loro. Erano solo... Sì, dici, tipo... Popolo... No, ascolta, sto fallendo più attacchi che attacchi che c'è... Ho fallito due volte fra quel tempo, di fila? Tre volte! C'è, già fra il tempo c'è la cura di un nonno morto. Oh! Ho fallito anche falcecanone. Ho fallito quattro attacchi di fila. No, ho fallito cinque di fila! Oh! L'ho preso, madonna! E gli ho fatto due PS, fra parentesi. Ma avvelenato. No, c'è, raga, veramente. Chi che stai usando? Garchomp. Ok. Serena, vai tu, ti prego. Tu non puoi fallire, non hai mai fallito. Hai riuscito a fare... Hai fatto rimorchiare... Perché c'è questo tipo... No, non è shiny. Perché è arancio Lilip? E... Perché... Cioè, è lo sprite di stagene che non mi ricordo io o arancio? Perché ha qualche problema. Un attimo. Mi sta venendo un dubbio tipo esistenziale. Cerca su internet Lilip shiny. Ti giuro, mi sta venendo un dubbio esistenziale perché non me lo ricordavo con questo sprite io. The clickbait for me... Wait... Lilip for Malola, punto di domanda. No, ma sai che... No, bambino maledetto! Ah no, ciao, sei bambino. No, magari è lo sprite che non... Probabilmente è lo sprite che non ricordo io, eh. Bro, sai che non so. Non ne ho la più palla di idea. Generalmente è rosa, come tutti sappiamo. Lilip shiny. Eh? È di un... Quello che ho appena trovato è di un colore che non si sa di che cazzo colore sia, mi sa. Di che cazzo colore sia, attenzione. Ma ci siamo capiti. Lessico forbito. Sto registrando troppo. Non lo so perché... Oddio. Cioè, non so se è lo sprite di Quartagenna morto. Eh, evidentemente. Lilip sprite di P. Oh, comunque io... A palla di... Ah no, aspetta. No, sì, su di avanti perle è arancione. Ok. Va bene. Lo so. Ricordami di censurare, comunque ti prego. Cioè, perché infatti lo ricordavo rosa e blu, tipo? O comunque io... Zia, a parte quello lì dove ho fallito dieci attacchi di fila, ne ho fallito un altro. Non sto trovando nessuno di forte. Cioè, ma neanche di Pokémon, capito? Vabbè che sono sovralivellato. Però dico un Pokémon decende. No, tutti i tumori. No, ma sai che forse sia un cancro in noi. Mi sa che Lilip è la terza in giù, che è del colore vecchio. Mi sa che dal quarto in su è dello sprite nuovo. Non lo so. Non lo so, tia. Però io ho appena detto che non ci sono Pokémon forti, mi ha mandato in campo Articuno. Mi taglio l'uccello, io. Tra un attimo. Bello, io sono arrivato a me morito, comunque. E io, non lo so, fallisco pure la Madonna. La Madonna fallisco. Zuffa. Tua madre nella busta. Non è vado a battere la recluta che sta fissando... Bravo, cane malefico. Sta fissando, insomma. Sta fissando. No, guarda che sono ovunque. Questa qua è un altro albero. Ti insegnerò ad apprezzare il fascino dei Poco un uccello. Apprezza l'uccello e non il fascino dei Poco un uccello. Schellar, dai, su. Questo così. C'è un strano astronauta. Ho letto, ma è bastardo. Spero che una vecchietta mi abbia detto, ma è bastardo. Non c'era, no. No, ma è... Ma è... Cosa puoi aver detto una vecchietta? Ma è bello. E così sexy. Dai, oh, muori. Forse non avrei dovuto mandare Serena contro Cacture. Stava per schiattare Serena. No, qua fallisco la mossa. Minchia, io non mi azzardo. Io fallisco la mossa. Me lo sento. No, 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 no. Non provare a farmi morire Serena. Falce il cannone. Eh, ho sbagliato. Ho miscliccato. Continuo a miscliccare. Persisto nel miscliccare. Ok, ci abbiamo fatta. Ok, perfetto. Ha rischiato di morire, ma è salvati. Tranquillo. È normale. Tranquillo. Tra il ghost right, ragazzo, quella che usano i piani alti. Ok, ho battuto. Ok, dovrei avercela fatta perché ho lasciato qualche aleatore indietro, raga, ma lo andremo ad affrontare off-camera. Lì andremo ad affrontare off-camera per allenarci, anche se non è che serva tantissimo, però sti gran cazzi. E' entrato dentro la caverna che non serve una ceppa. Qua non spesso. Ma che faccio vado ad affrontare la recluta? Ma che... Eh, sì. Ok, perfetto, salve a tutti i recluta. Giorgia. Mamma mia. Eh, bene, per te. Eh, bene, per te. Eh, 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 per te. Ah, già è vero. Con Groudon, perché Groudon sposta continenti volando, poi non si sa come liscianca usare surf. Un surfa sui continenti Tipo ogni tanto prende la Cambogia E comincia a surfare Da quando bronzo la levitazione? Da sempre? Eh sì Non mi risultavo Ho fallito un altro attacco E non c'è neanche la nebbia Dio Cristo Ma dov'è che stai sfidando l'altro senza nebbia? Ah la recluta La recluta Slugging Ma perché slugging si sta scapperando? Ma perché? Facciamo la cattura su 211 Eeeh Non lo so Se vuoi farla in questo episodio Sì altrimenti la facciamo nel prossimo Appena prima di battere Fanny Forse ha più senso Sicuri di avere Fanny? Sì 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 Eeeh Minchia sbriscio il mano è bella però Tolgo tossina Boh se vuoi o stoppiamo adesso Oppure facciamo la cattura E poi però almeno Boh vedita No no stoppiamo Chiudiamo Ok anche perché dobbiamo sbrigarci Ma io devo entrare nella grotta A fare qualcosa Sì Sì A parlare con la vecchia Allora aspetta Nel frattempo vado Sì Camilla 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 Va bene Sì E io sto girando in tondo invece Bravo Sì Complimenti Ma cosa dovete vedere l'immagine di pacchia Nella casa? Oh Non ho più Vediamo Ma deve arrivare Cyrus adesso? Sì Quando esce Ah ok No perché in poco con Platino Invece arrivava dopo Se non ricordo male No mi sa che non posso vederlo adesso Ma era qua Io non mi ricordo A parte che io vedrò di Alga Ora che ci penso Sì 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 Adesso per forza dobbiamo affrontare Fanny Z Perché dopo Perché surf la possiamo fare La possiamo usare solo dopo Per battuto La francese Mi chiamo Cyrus Ho bisogno dell'energia Per creare un nuovo mondo Un mondo senza conflitti Purtroppo però Questo tipo di energia Non sembra essere disponibile qui Ci siamo già incontrati vero Sul monte Corona Se scopri una forma di energia Derivante dalle leggende di Sino Fammi sapere Sì certo Perché come a meno di 10 anni È solito scoprire forme di energia Derivanti dalle Mi pare ovvio Comunque ragazzi Noi ci becchiamo Nel prossimo episodio Sul canale di Tia Noi speriamo che il video vi sia piaciuto Se così vi invitiamo Come al solito Facciamo un mi piace Un'iscrizione ad entrambi i canali E un commento rispondendo Alla pregunta del dia E nulla Passate dai social Mi raccomando Per rimanere sempre Aggiornati E premete la campanella Di entrambi i canali Per ricevere i feed E noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao ragazzi Questo è scemo